Quando pensiamo a parchi di divertimenti, i primi che ci vengono in mente sono Gardaland, Movieland, Disneyland. E invece Ubisoft ha in programma di fare un vero e proprio parco dei divertimenti a tema Assassin's Creed. Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Vrex e oggi andremo ad esaminare questa notizia, abbastanza succulenta. Dunque, l'apertura, cominciamo subito con l'apertura. Quando è che questo parco sarà aperto? L'apertura è prevista nel 2020, quindi di tempo di fantasticare ce l'è. Dov'è che verrà costruito? Verrà costruito, aspetta che lo devo leggere, verrà costruito in circa 10.000 metri quadrati in Kuala Lumpur in Malesia. Cosa potremo trovare in questo parco? Allora, pare che il parco sarà costruito su misura per chi andrà a visitarlo. Non è molto chiara questa cosa e alcuni dettagli sono ancora un po' sfuggenti. Ciò che dice effettivamente l'articolo in questione è che potremo muoverci all'interno degli scenari che appunto vediamo all'interno di Assassin's Creed. Quindi potremo visitare per esempio la Firenze rinascimentale come in Assassin's Creed, oppure visitare Parigi esattamente come appare in Assassin's Creed Unity e così via. Ora non viene però specificato quale tipo di attrazioni troveremo. Le cose sono state lasciate un po' così, diciamo, nel mistero. Però dichiarazioni ufficiali parlano di un parco dove immergere le persone in mondi in cui interagire fra di loro e diventare gli eroi di un gioco ritagliato su di loro. Queste notizie ci fanno abbastanza fantasticare. Voi provate a immaginarvi un parco dei divertimenti in cui possiamo effettivamente ritrovare gli elementi che troviamo in Assassin's Creed. Secondo me un fan sfegatato gli esplode il cervello. Io poi mi immagino, questa cosa sarebbe veramente folle, che quelli del parco assumano degli stuntman per riproporre anche certe scene del gioco e questo mi sembra il minimo. Ma intendo proprio dire, magari c'è questo stuntman su un muretto e deve scendere sulla strada e invece che scendere semplicemente lì a fianco c'è il fieno e dice, oddio, lì o là, la strada o il fieno e si getta nel fieno. Poi quando emerge così e parte la musica tipo, boom, bitch, get out of the way, sarebbe più, guarda, epico. E sulla scena di questo sembra che anche la Francia non se ne stia con le mani in tasca ma che, prima o poi, nella FutuScope a Poitiers verrà costruito un parco dei divertimenti con scenari ispirati a Prince of Persia, Rayman, Far Cry e i conili di Raving Rapids. Vabbè, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate con questa notizia e lasciatemi un bel commento qua sotto, questo non è un dislike, nel senso, lasciatemi un commento qua sotto, lasciatemi un bel pollicione e soprattutto iscrivetevi al canale, prima di lasciarci però un piccolo annuncio. Considerando che siamo alle porte del 2018, alcune serie che erano partite su questo canale le ho messe in pausa, anche perché adesso comunque con le feste e tutto quanto non mi sarebbe possibile. Difatti la rubrica del bidone dell'umido ricomincerà a gennaio 2018, quindi non vi preoccupate che ripartiamo con tanti indie brutti ne ho trovati parecchi. Quindi ragazzi, non vi preoccupate perché anche le serie che avevo promesso che avrei portato e poi non ho più portato, hanno nuovo, ricomincerà e ripartiamo con tutto, quindi tranquilli. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.